Eccoci qua in diretta, oggi è mercoledì 15 luglio ore 13, sto tenendo questa serie di dirette in occasione del lancio promozionale del nostro nuovo percorso investimento finanziario di lungo periodo e come promesso eccoci qui per fare due chiacchiere, per parlare di un argomento molto importante e condividerò a brevissimo un documento di Natixis che è una casa di investimento e lo commenteremo insieme e sarà molto importante perché è ricco di spunti molto interessanti per capire quanto si guadagna quando si investe in borsa e soprattutto quali sono le aspettative che hanno gli investitori quando investono e verificheremo se queste aspettative sono realistiche o no, quindi tra poco ti mostrerò un documento molto interessante e lo commenteremo insieme. Allora come funziona questa diretta? Adesso ti ricordo appunto in due parole che cos'è investimento finanziario di lungo periodo, poi ti esporrò un paio di idee interessanti e poi ti invito ad iscriverti al canale Telegram perché se chi partecipa vuole fare una sessione di, citeremo una decina di minuti per fare domande e risposte e se vuoi puoi venire in diretta. Quindi ti chiamo, ti chiamiamo, vediamo ecco qua, benissimo, quindi metto tra i commenti il canale Telegram se vuoi partecipare, cioè iscriviti perché uno c'è la possibilità se vuoi fare due chiacchiere ti chiamiamo, due sorteggeremo, ieri abbiamo sorteggiato il vincitore del corso gratuito, un certo Enrico C che poi ci ha contattato e ha riscosso il suo premio, però metteremo in palio delle altre cose. Quindi ci piace giocare col canale Telegram, ci sembra un'idea efficace per comunicare in modo diretto e quindi iscriviti al canale, trovi qui il link e più tardi se vuoi mi scrivi, mi scrivi, chiamami, ah no ho sbagliato, non l'ho messo nei commenti, l'ho messo in private chat, ok lo copiamo qua, dovrebbe andare e se vuoi fare una domanda la puoi fare in diretta via telefono, ok? Bene, allora, quindi due parole su investimento finanziario di lungo periodo. L'altro ieri, il 13, abbiamo presentato il percorso, è stato in occasione del webinar Ritorno al futuro finanziario, questo è un percorso per chi ha già chiari gli obiettivi di investimento per cui sta risparmiando, ok? E sono obiettivi di lungo periodo, lo so, il nome poteva essere un po' più fantasioso, ma a me piace fare le cose comprensibili, quindi il corso si chiama investimento finanziario di lungo periodo. È adatto a chi vuole investire con e disinvestire tra tre anni? No, insegniamo una strategia di investimento efficace per entrare nel mercato, uscire dal mercato per obiettivi di lungo periodo e per poter reggere tutto quello che c'è nel mezzo, ok? Tutto quello che c'è, tutte quelle condizioni che deve vivere l'investitore quando investe per lunghi periodi di tempo, c'è tutta una parte formativa di approfondimento per quanto riguarda la gestione del rischio, la conoscenza dei cicli finanziari, la comprensione della volatilità dei mercati in modo super approfondito, questo infatti è un percorso di livello intermedio, cioè la strategia è molto semplice ma l'approfondimento è piuttosto spinto, ci sono tantissimi numeri, lo vedete nelle testimonianze, anche quelle che abbiamo condiviso lunedì, è un percorso dal punto di vista delle conoscenze piuttosto avanzato. Non è indispensabile comprendere certi numeri, imparare le memoria, ma almeno riuscire a qualitativamente farsi un'idea di come funziona un ciclo economico, un ciclo finanziario, eccetera. Quindi questi sono concetti fondamentali se vuoi investire nel lungo periodo, per noi lungo periodo vuol dire almeno 7-10 anni, quindi particolarmente indicato per chi sta pensando a investire per la pensione piuttosto che investire per i figli, per dare dei soldi ai figli e magari come me c'hai figli con 3-5 anni, quindi sono piccoli. Cose di questo tipo, lungo periodo, ok? Per altri, se non è chiaro questa, se non è chiara questa condizione, magari devi farti, devi chiarirti le idee su come pianificare il tuo futuro finanziario, abbiamo altri percorsi che sono più indicati. Per chiarimenti su questo o per altri, puoi contattarci al numero 800 685 500, trovi tutti i dettagli alla pagina gpinvest.it slash investimento di lungo periodo. Bene, detto questo, ah, comunico che in occasione del lancio abbiamo messo anche, cioè sia un prezzo promozionale, sia c'è un premio, un bonus che diamo ai primi 100 che si iscriveranno e ormai non sono più 100 perché i bonus rimasti sono 63, ok? Quindi queste dirette hanno l'obiettivo di ricordarti questa cosa e se ti interessa non muoverti all'ultimo perché questo bonus che diamo in omaggio, che adesso ti spiego, che cos'è e tenderà a scadere. Diamo in omaggio 6 mesi di abbonamento all'osservatorio economico finanziario GP Invest, che è una serie di contenuti che pubblichiamo mensilmente e che è piuttosto tecnico, dove analizziamo la situazione economico finanziaria, parlando di dati. Io personalmente non leggo i giornali finanziari, non mi interessa, ma guardo una serie di indicatori una volta all'anno, ok? Questi sono gli, scusami, una volta al mese. Questi sono gli indicatori che commento in questo appuntamento mensile all'interno dell'osservatorio. Quindi se ti interessa, in questo momento secondo me è particolarmente indicato, è per questo che l'abbiamo messo come bonus per questo lancio promozionale, al valore di 497 euro. Se ti interessa lo diamo in omaggio se ti iscrivi tra i primi 100. Attenzione perché 63, scusami, 27 sono già andati. Detto questo, allora, qual è l'argomento di oggi? Quanto si guadagna? E perché questo tra l'altro è incredibilmente collegato con quello che abbiamo detto, con gli argomenti di cui abbiamo parlato lunedì nel webinar. Quanto si guadagna investendo in borsa? Questo è fondamentale da capire, cioè nel senso le persone devono avere comprensione, almeno a livello grossolano, di quanto si guadagna investendo in borsa. Perché? Perché noi dobbiamo avere delle ragionevoli aspettative di rendimento e questo è proprio l'argomento di questa diretta. Per commentare questi temi ho trovato un paper di Natixis, Investment Managers. Non so se si vede il mio mouse, ma lo scorriamo insieme. Vediamo se riuscite a vederlo. Se voi riuscite a vederlo, molto bene. Quindi, ed è un global survey, cioè quindi un sondaggio, un questionario globale che è stato fatto nel 2020 a livello mondo. Ok? Quindi sono stati intervistati 2700 professionisti, financial professional, a marzo, March and April 2020. Quindi 2700 professionisti a livello mondo e questo ci fa capire un paio di cose. Il paper è molto lungo, 20 pagine, ma noi ci concentriamo su due di queste che secondo me sono le più interessanti. Quindi anche, questo è un paper, quindi è un, come dire, un report che è stato fatto per consulenti finanziari. Ma perché? Perché i consulenti finanziari devono capire come relazionarsi con la clientela. Premesso che noi non facciamo consulenza, ma ci occupiamo di educazione finanziaria con percorsi formativi e comunque le tematiche sono le stesse. Anche da noi ci contattano persone che dicono oh fate corsi, ma io con i vostri corsi posso guadagnare il 30% all'anno? No. Cioè non è che non puoi con i nostri corsi, non puoi con nessun corso, perché è impossibile, cioè o meglio se sei nella top 100, top 500 investitori più efficienti del mondo, sì, ma è molto difficile riuscire a tenersi su percentuali di rendimento di quell'entità investendo nei mercati finanziari. Perché? Perché storicamente non hanno mai generato quei rendimenti. Quindi se tu poi sostieni di essere capace di battere il mercato in modo costante per 30 anni di fila, dovresti poterlo dimostrare. La maggior parte delle persone non ci riesce. È una mini... Dopotutto... Qui diventa un po' tecnico. Ma se c'è qualcuno che batte il mercato, c'è qualcuno che viene battuto dal mercato. Quindi chiaramente la maggior parte... La media viene fatta dal mercato, quindi quantomeno dovrebbero essere uguali in termini di capitali che battono il mercato e capitali che non lo battono. Diventa molto tecnico perché poi ci sono i costi, le tasse, quindi è un gioco a somma negativa. Questo viene spiegato all'interno di investimento consapevole. No, anche comunque in investimento di lungo periodo. È oggetto di percorsi. Diventa troppo tecnico e non voglio addentrarmi in tematiche di questo tipo. Mi interessa farti vedere questo grafico, che fa capire... Intanto non è un grafico, ma è una tabella. Ma è incredibilmente interessante commentare un paio di numeri. Allora, vediamo se si vede. Sì, perfetto. Poi dopo... Poi dopo... Sì, non riuscirò a vedere le domande, quindi scrivete le domande. Se ne avete, le risponderò alla fine. Allora, Global Average Expectation. Quindi, l'investitore individuale... O meglio, riformulo. Allora, qui sono stati fatti... Questo questionario è stato fatto a consulenti finanziari, i quali hanno il polso della situazione perché parlano con i loro clienti. Ok? Quindi hanno chiesto ai loro clienti qual è l'aspettativa di rendimento dei loro portafogli, dal loro investimento. Quanto ti aspetti di guadagnare? Bene. La media di questi 2.700 intervistati è che a livello mondo le persone si aspettano di guadagnare l'11.7%. Non so se si vede il mio puntatore, ma è questo qua in alto a sinistra. L'11.7% di rendimento annuo. Oltre l'inflazione. Ok? In Italia è poca, ma negli Stati Uniti fino a poco tempo fa era attorno al 2%. Anche un pochino di più. Quindi, gli investitori si aspettano di non solo compensare l'inflazione, ma batterla dell'11.7%. Non è dato, non è spiegato con che profilo di rischio, con che grado di... con che asset allocation, cioè con quale ripartizione tra azione e obbligazioni. È un dato di... è una media. Ok? Però, i consulenti a cui è stata posta questa domanda dicono sì, allora, il cliente si aspetta questo. In realtà, in base al suo profilo di rischio, sarebbe più logico aspettarsi questo. Quanto? 5.3%. Cosa vuol dire? Che l'investitore si aspetta più del doppio, più del doppio del rendimento che un professionista sarebbe in grado di generare. parlavamo di aspettative di rendimento ragionevoli. I nostri percorsi ti permettono di capire quali sono le ragionevoli aspettative di rendimento da un investimento, in base al tuo profilo di rischio. Tanto rischio, preso in modo consapevole, come spieghiamo nei percorsi, maggiore rischio, maggiore rendimento, minore rischio, minore rendimento. Qui c'è, questi dati mostrano come ci sia un profondo scollamento tra quelle che sono le aspettative dei clienti, degli investitori, e quello che realmente possono ottenere con un servizio di consulenza, ad esempio, che è quello che è oggetto di questo studio di Natixis. Non è un delta da poco, cioè non è una differenza da poco, tipo, ah, io volevo il 5, io volevo il 6, tu dici che posso fare il 5, vabbè, dai, più o meno ha un 1% di differenza. No, qui è il doppio, più del doppio, ok? Commentami cosa ne pensi. Quello che è interessante notare è questo dato, qui, cioè, sulla sinistra trovi il medione a livello mondo, sulla destra trovi il delta a livello di nazione, ok? Vabbè, Cile, ci interessa poco. Guardiamo l'Italia. In Italia, l'aspettativa di rendimento degli investitori è questa righetta qua. Non so se si vede il mio mouse, vediamo. Eh, no, non riesco a mostrarlo. Vabbè, siamo a metà. Italy, l'aspettativa di rendimento è 10,5%. Cioè, un cliente che va in banca o prende uno dei nostri percorsi di base, diciamo, si aspetta un rendimento del 10,5% all'anno. Sono dati, ok? Dati di Natixis Investment Managers. Il consulente che dà consulenza a questo cliente, sulla base della ripartizione e del profilo di rischio del cliente, dice, guarda, tu, con il tuo profilo di rischio, visto che hai voluto tante obbligazioni, ti dovresti esploitare un rendimento del 3,8%, in base alle attuali condizioni di mercato, al tuo profilo di rischio, eccetera. Il 3,8%. Quindi la differenza è l'errore in termini di aspettativa di rendimento che ha il cliente. E nell'Italia, guarda caso, visto che abbiamo conoscenze finanziarie inferiori alla media dei paesi sviluppati, siamo tra gli ultimi in termini di paesi sviluppati, siamo nelle ultime posizioni in termini di educazione finanziaria, le persone, lo dimostrano con questo dato, non sanno che cosa ci si può aspettare da investendo nei mercati finanziari. Quindi, in base al loro profilo di rischio, potrebbero ambire verosimilmente a un 3,8%, ma nella loro testa sognano di fare il 10,5%. Cosa significa? Significa che hanno delle aspettative di rendimento completamente sbagliate. Perché? Perché finanziariamente sono ignoranti. Non hanno cultura finanziaria. Qual è il problema? E perché serve un percorso come quello che abbiamo creato? È perché il consulente finanziario non ha il tempo, molto spesso le capacità e molto spesso la voglia di spiegarti queste cose. Per questo noi abbiamo puntato sulla formazione. Perché vogliamo dare strumenti agli investitori per essere finanziariamente acculturati, ma anche per fare un passettino in più. Possono continuare a andare dal loro consulente, ma adesso hanno delle ragionevoli aspettative di rendimento. Perché è importante questo? Al di là della consapevolezza. È importante anche perché avere delle aspettative di rendimento che non sono razionali, non lo so, io vorrei il 20% all'anno, senza sapere quello che realmente può generare il mercato, ti espone dei rischi truffa, banalmente. Perché tu sei spinto dall'avidità di quello che ti dice ehi, ti faccio guadagnare il 20% all'anno, basta che mi bonifichi i soldi su questa società panamense e poi ti assicuro che ti faccio guadagnare il 20% all'anno se riesci a beccarmi, ok? Ti espone a questo rischio di truffa, perché tu non hai conoscenze, sei, parte l'avidità, nella maggior parte delle persone sono spinte da profonda avidità, non sai che cosa ti puoi aspettare, vieni, come dire, sì, contagiato, vieni affascinato da quella che è una promessa di rendimento, che non ha alcuna consistenza finanziaria. Questa è la tematica ed è molto importante conoscere questi numeri, perché là fuori è pieno di gente che gioca su questi numeri, ok? Ti dice che ti può far fare il 20% all'anno, magari ti fa vedere che lui l'ha fatto negli ultimi sei mesi e che cosa vuol dire se l'hai fatto negli ultimi sei mesi, non significa niente, potresti averci preso per pura fortuna, ma gioca sulla tua incapacità di analizzare i dati di rendimento, quindi invece capire che cosa ci si può aspettare da un investimento finanziario ci permette di diventare investitori più consapevoli, essere meno vittima di potenziali truffe, gestire in modo più logico e razionale il rischio finanziario e via e via, e così via. È come lanciarsi in un viaggio in barca a vela, la barca a vela lo sappiamo, io ho fatto un'esperienza in barca a vela e sai, la mia esperienza in barca a vela è stata pessima, perché io a vela probabilmente sono stato un pomeriggio, per un pomeriggio siamo andati a vela, tutto il resto a motore. Ecco, se lo skipper che mi ha venduto l'idea della vacanza in barca a vela mi avesse dato delle ragionevoli aspettative di vela, mi avrebbe detto, guarda, noi andiamo con la barca a vela, però il vento spesso non c'è. Quindi anche se abbiamo la vela, l'albero con le vele, cazza la randa questa roba qua, se non c'è vento siamo fermi e andremo a motore. Questa è l'onestà intellettuale di qualcuno che ti dice le cose per come stanno, ok? E invece, molto spesso c'è chi dice, sì sì, vento, ci sarà la, abbiamo la barca a vela, ci sarà vento, spediti a 40 nodi, ok? magari la barca a vela in questione non può arrivare a quella velocità, perché il vento, non lo so, non sono poi tutto, non sono molto esperto di queste tematiche, ma capisci il concetto delle ragionevoli aspettative? Dopo che hai fatto un viaggio in barca a vela lo sai, io adesso so che se lo faccio un'altra volta, una vacanza in barca a vela, potrei trovarmi nella condizione di non andare a vela e di comunque usare il motore. Quindi questo è il tema, ed è importante, questi numeri confermano che la maggior parte delle persone non sa di cosa sta parlando quando investe. Altra slide molto interessante che commentiamo, poi dopo passiamo alle domande. Allora, associato al tema delle ragionevole aspettative di rendimento c'è la comprensione del rischio, perché le persone, se non sono finanziariamente acculturate, si aspettano di guadagnare tanto e si aspettano di prendersi pochissimo rischio, giusto? Non hanno chiara, se non hanno fatto dei percorsi con noi, qual è la relazione rischio-rendimento, che non è una cosa semplice come quella che ti può spiegare la nonna, cioè più rischio più rendimento, ok, sì, quello è un po' come, quello è il buonsenso, un pochino più nel dettaglio si può andare, nel percorso investimento finanziario di lungo periodo, ci sono sei ore sulla comprensione del rischio, due moduli, una decina di lezioni, perché è incredibilmente più complesso da analizzare, in termini concettuali, in termini operativi, semplicemente una consapevolezza maggiore, dobbiamo entrare più nel dettaglio. Cosa dicono i professionisti che sono stati intervistati dopo che hanno, cioè cosa dicono relativamente alla comprensione del rischio da parte della loro clientela? La loro clientela siete voi, quindi loro vi hanno intervistato, se vi rivolgete a Natixis Investment Manager, vi hanno chiesto qual è la vostra comprensione del rischio, quindi alla domanda, sei consapevole del rischio presente nei mercati finanziari con il tuo portafoglio, cioè la tua esposizione al rischio, ne sei consapevole? L'80% degli intervistati dice sì, certo, yes, I do, ok? Il 57% dei professionisti che ha il rapporto con loro di consulenza dice no, you don't, quindi no, tu per le affermazioni che fai non sei consapevole del rischio che ti sei preso, quindi non solo hai delle irragionevoli aspettative di rendimento, o in altre parole ti aspetti un rendimento che non sta né in cielo né in terra, dall'altra parte ti sei preso un rischio di cui non sei consapevole, queste sono statistiche, lo ripeto, è uno studio di NaticSys Investment Managers che viene inoltrato a consulenti finanziari, i quali riportano i dati della loro clientela, e la loro clientela siete voi, siete voi meno i nostri iscritti, perché i nostri iscritti non risponderebbero così. Altro tema incredibile, abbiamo parlato lunedì sera in modo molto approfondito della tematica dell'investimento di lungo periodo, avere visione di lungo periodo, che, numeri alla mano, è quello che ci permette, se possiamo permetterci di vincolare il denaro nel lungo periodo, è quello che ci permette di avere migliori rendimenti, perché commettiamo meno errori, perché abbiamo appunto una prospettiva di lungo periodo, riusciamo a contestualizzare meglio gli eventi, eccetera. Qual è l'elemento opposto alla visione di lungo periodo? È la visione di breve periodo, che se la visione di lungo periodo è lungimirante, ci aiuta ad investire in modo efficace, avere una visione eccessivamente di breve periodo è il contrario, quindi è deleterio, dovremmo cercare di evitarla. Quindi, all'affermazione, I am focused on short term returns, short term returns, quindi sono focalizzato sui ritorni di breve periodo, sul guadagno di breve, gli investitori dicono, no, 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 io ho una visione di lungo periodo, il 60% di loro dice, no, no, io no, io sono bravo, sono un investitore di lungo periodo. Il 79% dei consulenti che ha in consulenza queste persone dice, no, no, tu sei troppo focalizzato sul breve periodo. Quindi, questa è la differenza di percezione. Abbiamo parlato molto di percezione lunedì sera, quindi, mi spiace per chi non se l'è perso, se ti sei perso il webinar, contattaci il nostro team commerciale, ti farò un riassunto, ok? E ti spiegherà comunque di cosa abbiamo parlato. Non tutto è perso, purtroppo la presentazione sì. Questo è il tema delle percezioni, mi ci sono concentrato parecchio. Il rischio è una percezione. Ci sono persone che lo percepiscono in modo molto alto, e altre che magari ne percepiscono molto meno, ok? Ed è estremamente personale la percezione del rischio. Questo è un esempio molto lampante, cioè di investitori che dicono che hanno comprensione del rischio, il consulente che li segue dice, no, non è vero, in base a quello che dici o come ti stai comportando, non è vero. e investitori che dicono, no, no, io ho la visione di lungo periodo, e il loro consulente che dice, no, tu non ce l'hai perché ogni due settimane mi chiami. Quindi tu non hai una visione di lungo periodo. È un po' come, non so se l'avete vista, quell'immagine del tipo mingerlino che si guarda allo specchio e si vede super muscoloso come Arnold Schwarzenegger. Ok? C'è, e questo è un errore comportamentale, una tendenza cognitiva di cui parliamo nei nostri percorsi, questa si chiama overconfidence, eccesso di confidenza. Le persone si ritengono migliori di quello che in realtà sono. Ok? Lo so, tutti vorremmo essere dei fenomeni in qualunque cosa nella vita. Una statistica incredibilmente interessante dice che gli intervistati, le persone intervistate negli Stati Uniti a cui è stato chiesto come ti ritieni di guidare meglio della media, di guidare l'auto meglio della media, il 90% degli intervistati ha risposto di sì. Cioè il 90% degli americani, è un dato americano, potrebbe essere uguale anche in Italia, il 90% degli intervistati americani si ritiene migliore della media a guidare. Non è possibile, perché la media è la media. Quindi è un esempio di overconfidence, cioè eccesso di confidenza, gente che si ritiene più brava di quello che in realtà è. Queste sono le tematiche che dobbiamo affrontare. Quindi adesso torno in diretta, cioè torno, esco dalla modalità visualizzazione, guardiamo un po' di domande. È chiaro? Fatemi sapere nei commenti. È chiaro quali sono i rischi di non avere ragionevoli aspettative di rendimento? Ti espone al rischio di truffe? Ti espone al rischio di errori comportamentali? Perché siamo, come diceva Adam Smith, siamo una cozzaglia di tendenze cognitive. Cioè l'uomo pensa di essere incredibilmente razionale, in realtà, al di là di persone che tendono ad essere per loro natura più razionali di altre, l'uomo per sua natura è un animale, è emotivo all'ennesima potenza. Quindi io tendo ad essere più razionale della media, ma forse è overconfidence, visto? Non lo so. Vabbè, diciamo, ho prove, quantomeno ho delle prove che mi dimostrano che in momenti di tensione dei mercati io sono stato razionale. Quindi, però vedi? Farò un altro video su questo tema perché poi chi... Vabbè, non mi indilo. Questa è una parentesi. Guardate il canale perché arriveranno dei video molto interessanti. Il messaggio però è proprio questo. Possiamo essere vittima dei nostri viaggi mentali se, e questo rischio, il rischio di overconfidence, di tutti gli errori comportamentali di cui parliamo all'interno del percorso, sono amplificati se tu non hai le conoscenze giuste. Se tu le hai, sei meno vittima. È come dire, se tu non sei mai andato in aereo e non sai quali sono le statistiche di, come si dice, quando un aereo di incidente aereo, magari sovrastimi quella che è il rischio dell'aereo e magari sottostimi quello che è il rischio di fare un incidente in auto. Ma se tu sapessi i dati statistici e le probabilità di morire con un incidente aereo, con un incidente in macchina, avresti una migliore percezione di quello che è il rischio che stai correndo. Quindi è per questo che è un percorso tecnico, investimento finanziario di lungo periodo, perché dobbiamo studiare dei dati. Quanto meno per contestualizzare, non vanno imparate a memoria. Io non li so a memoria, ok? A livello macro sì, so delle date importanti di avvenimenti, ma non mi interessa sapere qual è stata la deviazione standard dell'S&P 500 il 21 ottobre dell'87 quando c'è stato il flash crash. Non mi ricordo neanche se era esattamente il 21, è stato in ottobre dell'87. Ok? Questo è il messaggio. Quindi o in autonomia o con un percorso come questo che adesso ha un prezzo veramente molto interessante, devi colmare queste lacune, ok? Bene, rispondiamo a qualche domanda. Allora, intanto ricordo che alla fine, tra un pochino, se vuoi farmi delle domande in diretta, iscriviti al canale Telegram e se sei disponibile, scrivilo nei commenti che ti chiamo e facciamo, e mi puoi fare una domanda in diretta. Le dirette dell'estrazione dei premi futuri, dei premi dureranno fino al 26. Allora, il premio è già andato, l'abbiamo fatto ieri in diretta, è un certo Enrico che ha vinto, l'ho chiamato in diretta, poi lui ci ha richiamato, gli abbiamo assegnato il premio. È stato molto divertente, la prima volta che facevo una cosa così è stato, insomma, carino, divertente. È uno strumento efficace questo, per questo che stiamo invitando le persone a iscriversi. Allora, Tiziano, però 10.5% è un dato medio tra i paesi che ci sono nella tabella, vuol dire che gli investitori retail del mondo sono ignoranti, non solo noi italiani, no, infatti, tutti lo sono, gli italiani lo sono più della media però, questo è dimostrato, sia da quel dato lì, che da altri dati, tu cerca Financial Literacy su Google, Italia versus Rest of the World, e vedi un po' i dati. Financial Literacy, ok? Perché Tesla hanno reso oltre 20% all'anno? Speculazione. Probabilmente queste sono le prime termestrali inutili della storia di Tesla. Quindi c'è molta speculazione su Tesla, perché Elon Musk è un mago del marketing e della comunicazione. Tiziano, e poi credo che pagare un consulente e farti fare un 3.8% all'anno non ha molto senso, ho sbaglio. Allora, io non sono entrato nel tema nel tema del costo della consulenza, quello è un altro tema, ok? È un altro tema, e ne ho parlato in miliardi di altri video sotto la playlist, consulenza, conflitto di interesse, ci sono 100 video probabilmente su questo canale. Qui mi sono limitato ad analizzare i dati relativi alle conoscenze degli investitori, ok? Poi lo sappiamo, è chiaro che quello che conta è riuscire a investire in modo efficace minimizzando i costi e minimizzando le tasse. L'impatto di costi e tasse è molto forte in termini di riduzione del rendimento. Quindi, all'interno del percorso, investimento di lungo periodo, spieghiamo come poter minimizzare l'impatto di costi e tasse con un approccio strategico molto semplice, molto efficace nel lungo periodo. Ok? Quindi, però quello è un altro tema. Qui mi concentravo sulla tematica della consapevolezza e degli errori comportamentali degli investitori. I consulenti tirano l'acqua nel loro mulino e anche i loro interessi. Sì, però non è l'argomento di questa diretta. Non sono esente da... Cioè, su questo canale, se mi seguite da un po', c'è un video ogni sei, più o meno, è a, come dire, va a contestare quelle che sono servizi di consulenza che non sono nell'esclusivo interesse dei clienti. Ok? Quindi, non mi sembra che lesini di contestazioni. Anzi, ma non è questo l'argomento del giorno. Secondo me, in Italia c'è troppa versione a rischio, bisognerebbe prendere spunto dagli US. Allora, bella domanda, ed è questo è un tema di cui parliamo anche all'interno di pianificazione finanziaria fede a te. Negli Stati Uniti sono obbligati a prendersi rischio finanziario. Perché non c'è l'Inps? Perché se vogliono smettere di lavorare devono vivere del capitale che hanno accumulato per tutta la vita lavorativa. E il capitale da un lato lo risparmi, dall'altro si rigenera, cioè si rivaluta, scusami, maggiormente più rischio ti prendi. Ok? Quindi, negli Stati Uniti devono prendersi rischio finanziario. Se no, non smettono di lavorare. In Italia possiamo permetterci di vivere pensando sempre che l'Inps ci darà una pensione in linea con il nostro tenore di vita. Guarda la diretta di ieri, ci sono più a causa Covid ci sono stati più assegni pensionistici che buste paga di lavoratori. Tu dimmi se questo è un sistema sostenibile nel lungo periodo. Quindi, abituiamoci all'idea che ci sarà comunque un assegno dell'Inps o della tua cassa ma questo man mano che passano gli anni per ragioni demografiche, per ragioni di sostenibilità del debito pubblico italiano è un assegno che non potrà che ridursi. Cioè, è matematica. Poi nei nostri percorsi lo spieghiamo bene, è matematica. Quindi, anche in Italia ci sarà gente che sarà costretta a doversi prendere più rischio finanziario. Quanto va verificato? Per questo, pianificazione finanziaria fai da te con i software che mettiamo a disposizione ti permette di fare delle simulazioni. Ok? Ma allora tutti quelli che hanno le intuizioni e guadagnano? Non capisco cosa intendi per intuizioni. Lungo periodo è da 5 a 10 anni? No, per me quello è medio periodo. Lungo periodo è almeno 10. Ma perché a febbraio in crisi covid alcuni consulenti dicevano di vendere? Eh, bella domanda, bellissima domanda. Perché? Perché? Questo è un tema molto tecnico, io non so quanti riusciranno a seguirmi, provateci, se no vi iscrivete a uno dei percorsi. perché? Perché c'è un conflitto di interesse enorme, perché il loro obiettivo è cioè ci sono profonde, cioè la consulenza non è la formazione. Quando sei all'interno di un contesto come la formazione, io non ho interesse dal momento che le persone pagano il servizio. Ok? Dal momento che le persone pagano il servizio, io ho l'esclusivo interesse, cioè io ho l'interesse di dare contenuti, dare valore nel loro esclusivo interesse. La dimostrazione che questo avviene è che poi le persone comprano più servizi. La media è 2.4 servizi cliente ad oggi. Perché? Perché si rendono conto dell'onestà intellettuale che c'è nel percorso, perché l'hanno pagato prima. Se tu vai da un consulente, non paghi il servizio. Quindi lui ti deve tenere in un qualche modo, scusami, non paghi il servizio direttamente, chiaramente lo paghi in modo indiretto, come con i prodotti che hai nel portafoglio. Ma il suo obiettivo è diverso da quello di qualcuno, da quello nostro ad esempio. Il suo obiettivo è tenerti lì, mascherare i costi, farti vivere meno volatilità possibile, perché se tu vivi la volatilità ma non sei formato, non sai cosa vuol dire la volatilità dei mercati, perché lui non ti ha fatto formazione. Se lui ti fa vivere troppa volatilità tu dici no, tu mi stai facendo perdere e allora vado da un altro. Quindi c'è un conflitto di interesse. Quindi lui ti porta a vendere nel momento sbagliato. Ok? E questo è il conflitto di interesse. La vedete? La prova? Io non so in che, ci sono cento video sul canale dove parlo del conflitto di interesse, ma adesso lo vediamo in pratica. Io a marzo 2020 ho comprato. Ok? Pesantemente. E ai nostri, poi, questo con i miei soldi, nei nostri portafogli modello comunque abbiamo aumentato l'esposizione nazionale a marzo 2020. Quindi questa è la differenza tra un servizio nel tuo esclusivo interesse, noi non facciamo consulenza, facciamo formazione, e un servizio che non è nel tuo esclusivo interesse. Il tuo interlocutore ha finalità diverse. È chiaro? Fatemelo sapere, se no ci stiamo ancora. Se no, anzi no, parlate col nostro team commerciale che ve lo rispiega e ci chiamate al numero 800-685-500. Poi, vediamo. Le statistiche non comprendono gli imprevisti prevedi Covid. Ok, non capisco cosa vuole, cosa centri questo punto. Le statistiche di rendimento di lungo periodo? Sì, perché oggi c'è il Covid e l'altro ieri c'era la bolla delle aziende tecnologiche nel 2000 o c'è stato la crisi dei mutui subprime nel 2009 o la crisi del debito sovrano nel 2011. Cioè, sì, le cause scatenanti sono diverse ma i crolli ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Antonio, se un orizzonte temporale di 20 anni inizia un PAC 100% azionale come lo devo gestire negli anni? È quello che ti spieghiamo nel corso. Un'opinione su Monifarm non la posso dare perché non do opinioni sui competitor. Anche se loro fanno consulenza e noi facciamo gestione scusami, noi, che gestione? Loro fanno gestione e noi facciamo formazione e sono servizi diversi. Io non posso fare, non sarebbe intellettualmente onesto o ti fai tu le tue analisi non chiedere a me un parere su un competitor. Buongiorno, l'investimento nel medio termine è rischioso? Ti giuro che non capisco la domanda. Cosa vuol dire? Dipende quanto rischio ti prendi in relazione all'orizzonte temporale. Scrivemelo meglio perché non ho capito la domanda. È corretto affermare che avendo un orizzonte temporale di almeno 20 anni qualsiasi momento è buono per investire? Sì. Sì. non ti cioè questa è una risposta qualitativa la prova numerica di questa cosa è nel corso. Purtroppo non ti posso mostrare dei dati qua. Ok? Sappi che la prova numerica ed è quello che ti farà dire acciderboli meno 30 va ancora giù meno 40 ok? Quella è la cosa che ti darà confidenza è la prova numerica. Cioè è quando non lo so io non farò mai paracadutismo ma se mai dovessi fare paracadutismo io piegherei il mio paracadute perché l'ho verificato io ok? Chiaramente mi fiderei dell'istruttore che lo piega per me ma non lo farei piegare a uè Gigi vieni qua un attimo piegamelo no ecco no ecco non così cioè c'è attaccata la mia vita c'è la mia vita in ballo me lo piegherei io quindi mi faccio spiegare e riverifico dieci volte la procedura questo vuol dire essere confidenti di quello che succede quindi a livello qualitativo sì ok funziona ma se fosse così se bastasse il qualitativo perché la gente perde soldi? te lo dico perché perché comunque anche se le cose le sa è vittima dei propri errori comportamentali tematica che approfondiamo nei percorsi e ti spieghiamo come limitare il più possibile questi errori Tiziano come reputi l'esame per diventare consulente troppo basico non reputi l'esame per diventare consulente troppo basico e quindi non ci siano troppi consulenti impreparati nel pratico allora breve premessa per farvi capire noi abbiamo molti consulenti che si vengono a formare da noi non posso fare i nomi ma molti ok anche perché magari diamo a disposizione degli strumenti a cui loro non hanno accesso tipo i nostri software ok lo so stupisce anche me ma è perfettamente logico ok perché 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 succede perché è perfettamente logico perché non c'è interesse nel fare vera educazione finanziaria quando vengono venduti prodotti la formazione che ti fanno è sulla vendita no quindi o trovi un consulente e ce n'è qualcuno là fuori che studia tanto sa tematiche come quelle che spieghiamo nel percorso e prova a far convivere questi due lati cioè la vendita di strumenti finanziari con la vera educazione finanziaria oppure hai davanti gente che dice no guarda se io sono consulente finanziario la definizione è questa però però io ti devo piazzare dei prodotti giusto perché io vivo di questo quindi è molto ci sono degli illuminati là fuori ma sono la minima parte non pensare che basti che se vuoi fare consulenza deve essere iscritto all'albo chiaramente noi non facciamo consulenza facciamo informazione non pensare che basti l'abilitazione all'albo quella è una tematica legale ok ne devi sapere di privacy di gestione delle controversie ma cioè le tematiche la vera la vera educazione finanziaria la vera conoscenza che ha un investitore non si acquisisce facendo l'esame dell'albo ok per l'abilitazione è un altro mondo cioè ti basta fare anzi vabbè cioè la prova è che basta voi dovete non dovete fidarvi di me voi dovete fidarvi delle testimonianze che facciamo ok che ci sono sui nostri percorsi quindi guardate le testimonianze di investimento consapevole del corso ci contattate ve le inoltriamo e vedete come la gente dice oh vado in banca e ne so di più del mio interlocutore è certo è ovvio il tuo interlocutore o si è formato in autonomia o anche da noi visto che sto dicendo appunto che abbiamo consulenti che vengono a formarsi da noi oppure ne saprà meno di te perché non ha studiato tanto quanto te a meno che appunto non si sia formato bene dove siamo se uno avesse Andrea se uno avesse un patrimonio di un milione in titoli 30% azionario e resto obbligazionario può andar bene per far cosa? se uno avesse una Ferrari può andar bene per far cosa? per far la spesa? no lo vedi? che non cioè la domanda non significa niente contattaci perché questo cioè capisco la domanda non ti si può dare una risposta con una domanda di questo tipo se tu vuoi risposte più precise contattaci che il mio team ti fa domande come questa ok? ma per farci cosa? quali sono i tuoi obiettivi finanziari? che cosa vuoi ottenere col tuo denaro? bla 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 l'unico modo è parlarne con qualcuno qui io ti do l'imbeccata è chiaro che ci sono un centinaio circa di persone in diretta e quindi devo rispondere a tutti ok? Alessandro se un investimento di medio periodo 5-9 anni ogni quanto tempo dovrai verificare l'andamento dell'investimento giusto per capire se sta andando in una direzione giusta? allora la domanda è l'hai impostato bene o l'hai impostato male? se l'hai impostato bene con regole tipo quelle che insegnavo all'interno del percorso per me una volta ogni 6 mesi una volta all'anno ok? se no se la risposta è no è impostato bene vuol dire che tu sai vita, morte, miracoli di quello che stai facendo sai ogni singolo dettaglio del perché lo stai facendo e di come ti comporterai se succede una determinata cosa cioè hai una strategia chiara verificata di cui ti fidi che stai mettendo in pratica da un certo periodo di tempo se non è così la priorità è sistemare la situazione ok? quindi questo è il punto quindi ogni quanto verifica io personalmente per una parte del mio portafoglio sì io lo verifico ogni 6 mesi cioè mi capita cioè se ho tempo lo faccio se no non è un problema anche aspettare diversi mesi Antonio principalmente TF utilizziamo utilizziamo principalmente TF per questi percorsi altri strumenti per percorsi più avanzati e parliamo anche sì parliamo anche della scelta del broker o del broker o della banca di riferimento spieghiamo anche come gestire l'intermediario insomma per maggiori informazioni su dove spieghiamo contattaci che dichiariamo esattamente in base alle tue necessità dichiariamo qual è perché ormai l'offerta è molto ampia e quindi e si ampierà cioè abbiamo molte altre cose non posso dirvi tutto adesso adesso ci siamo concentrati su questo ma molte cose molto interessanti arriveranno e quindi per muoversi districarsi all'interno di questa offerta contattaci che ti guidiamo Tex Wheeler ma fate formazione nel senso che fate corsi allora ormai non si può dire che facciamo corsi cioè riformulo nel senso che c'è della formazione ma c'è una serie di contenuti il servizio è molto più che semplice che un semplice videocorso perché ci sono strumenti finanziari ci sono portafogli modello ci sono dei software c'è un supporto che viene dato con dirette periodiche quindi non è più non è un servizio consulenziale perché non c'è una personalizzazione ok perché tu scegli il servizio che fa per te e poi accedi a delle aule con 50-100 persone in base al tipo di servizio e quindi non c'è una personalizzazione del servizio e quindi sono standardizzati questa è la differenza ok ma sono servizi molto completi cioè c'è sia se hai dei dubbi ci sono le dirette se hai difficoltà a fare dei calcoli ci sono i software che mettiamo a disposizione se hai bisogno di colmare certe lacune conoscitive di conoscenza c'è la forma c'è ci sono i videocorsi eccetera è un aggregato di servizi Nazario ciao Giorgio i fondi comuni azionari sono un buon prodotto di investimento a lungo termine e se sì quali sono i migliori sono quelli che spieghiamo all'interno dei percorsi investimento di lungo periodo o i nostri portafogli modello in generale devono costare poco e devono se li scegli con gestione attiva devono dimostrare di essere in grado di battere il mercato come verificarlo se ne hai già in portafoglio investimento consapevole è un percorso storico che è già a disposizione da un bel po' contattaci info chiocciolagpinvest.it che ti guidiamo in questo percorso secondo te il Nasdaq è sopravvalutato e lo vediamo alle prossime trimestrali guardate il video di dopodomani no di sabato perché parliamo di trimestrali visto che gli etf costano meno dei fondi chi sono gli stupidi che oggi comprano i fondi? la maggior parte la maggior parte la maggior parte cioè la maggior parte vuol dire il 90% ok? capisci perché quanto potrei andare avanti a parlare di conflitto di interesse e di costo degli strumenti di efficienza dei portafogli cioè prima che ci sia una diffusione a livello nazionale italiano dovrei fare dirette tutti i giorni per 20 anni e forse arriviamo al 50% non ho tutta questa pazienza ve lo confesso infatti le dirette finiranno alla fine del lancio poi dopo ci rivediamo in diretta a settembre bene grazie Daniela gli etf in banca non te li propongono neanche perché non ci guadagnano è chiaro ovvio quale broker consigliate entra all'interno del percorso che te lo spieghiamo grande Giorgio un vero faro nella notte dei giarlatani grazie bella immagine mi piace molto la userò come mia per il futuro cioè la spaccerò per mia mi fa piacere ok però tu non sei cliente quindi mi fa molto più piacere se ti scrivi e ti si può aiutare in modo più preciso e più dettagliato Farus gli etf costano meno ma attenzione al meccanismo del tracking error e i derivati certo spieghiamo come fare le analisi meglio puntare su etf oppure sica mi sono già espresso che ne pensi del jpm organ nazionario non parliamo di titoli singoli su questo non posso parlare di titoli singoli se parliamo di fondi devi essere in grado di analizzare lo strumento finanziario ok che cosa c'è magari tu ce l'hai in pancia questo quindi la domanda è come faccio a capire se è un buon strumento finanziario se è questo che mi stai dicendo indirettamente bene devi essere in grado di analizzarlo o da sola o ti fai aiutare il percorso nostro in cui facciamo queste facciamo la conversione di un portafoglio non efficiente in un portafoglio efficiente è investimento consapevole se vuoi maggiori informazioni 15 contatti in un periodo di inflazione zero addirittura deflazione è corretto sostituire l'obbligazionario poco performante con delle liquidità dipende cosa intendi per poco performante può avere un è chiaro che se hai dei rendimenti negativi cioè chi te lo fa fare ok quindi da valutare però la definizione poco performante significa poco dipende devi fare un'analisi finanziaria all'interno dei portafogli modello lo facciamo noi per te allora bella domanda Corrado ma Corrado io non mi ricordo il tuo nome mi è noto ma tu sei già cliente o no o forse Bazzichi già da un po' i suggerimenti in generale ad esempio i broker sono accessibili anche per chi risiede all'estero allora la premessa è contattaci perché risiedere all'estero può voler dire molte cose risiedere in Germania o uno oggi c'è scritto da Bali ok da Bali è diverso se sei fuori dalla comunità europea dal mercato è diverso quindi contattaci che dichiariamo le idee in linea di massima se sei all'interno della se sei in un paese europeo non ci sono problemi le linee guida sono applicabili al 100% se sei applicabile cioè se sei residente non lo so in Nuova Zelanda cioè proprio dall'altra parte del mondo in un sistema che non è filo europeo la logica la filosofia di investimento è applicabile al 100% però bisognerà applicare qualche correzione qualche adattamento ok Monica in fondo in perdita è meglio reinvestire disinvestire non ho riscrivimi la domanda non ho capito allora vi ricordo abbiamo gli ultimi 10 minuti poi alle due stacco che è una riunione che se vi iscrivete al canale Telegram e mi date la vostra disponibilità mi fate una domanda in diretta ok vi chiamo se volete parliamo qualche minuto mi fate una domanda in diretta Andrea dopo le elezioni in America c'è il rischio di un nuovo crack dei mercati ma magari anche prima premesso che nessuno può saperlo per me è un po' quello che dicevo nessuno può sapere il futuro nessuno può prevedere il futuro si può stimare un aumento del rischio che si verifichi un evento piuttosto che un altro cioè capiamo il rischio due breve parentesi sul rischio la probabilità di farsi male in macchina in un incidente è maggiore o inferiore se tu ti metti la cintura o non te la metti buon senso se io mi metto la cintura so che il rischio di farmi male in un incidente in macchina è minore è nullo? no è minore quindi se io mi tolgo la cintura mi espongo ad un rischio maggiore quindi ci sono degli eventi che possono portare ad una maggiore o minore esposizione al rischio questo non vuol dire che l'evento si verificherà non vuol dire che se tu non ti metti la cintura ti farai male aumenta la probabilità di farsi male ok? questo questi sono i concetti che bisogna capire come investitori e ci sono ore e ore di contenuti nel percorso quindi cosa sta succedendo negli Stati Uniti? ci sono le elezioni ok? Biden sembra essere favorito e ha un approccio diametralmente opposto a Trump e l'approccio di Trump è molto apprezzato dal mondo economico-finanziario e poi c'è un problema di contagi che ha detta di Fauci che è il capo della task force americana per la gestione del coronavirus è un epidemiologo non so come si dica bene dice che l'epidemia è fuori controllo negli Stati Uniti non sono entrati in una fase 2 di contenimento sono ancora in una fase 1 quindi cosa vuol dire? che ci sono più rischi ci sono questo vuol dire che i mercati crolleranno? no vuol dire che ci sono più rischi e la ragione per cui ne abbiamo parlato lunedì è che se ci sono più rischi chi non è munito delle solide fondamenta di conoscenze o in autonomia o con questo percorso sarà meglio che in breve tempo si prepari ad uno scenario che è più probabile non è detto che si verificherà ma è più probabile rispetto che non marzo o più intellettualmente onesto di così non so come come direi che sia chiaro il messaggio ok Manuel è vero che le sim hanno una protezione di 20k e le banche di 100k ma per la liquidità sulle sim dovrei vedere non sono dovrei verificare parli della liquidità sui conti correnti perché in Italia mi devono tassare il 26% sul capital gain non ti pare esagerato guarda per me è molto più esagerato il 24% di IRS sulle imprese ok cioè capire la differenza tra tassazione sul patrimonio tassazione sul reddito che sia IRS per le imprese poi c'è anche l'IRAP o che sia l'IRPEF come persona fisica quella quello è un furto ok le tasse sul capitale sul patrimonio accumulato per quanto io sia detentore di patrimonio le vedo meno e non cioè non è che mi fa piacere ok una patrimoniale fa incazzare tutti fuori discussione ma a livello di se voglio togliermi il cappello di cercare di essere di pensare al bene della nazione dobbiamo detassare i redditi se no non si crescerà non ci sarà mai crescita economica non è una mia opinione che si fonda su modelli che guardi modelli economici che guardi che guardi là fuori dove dove c'è meno tassazione sui redditi c'è più crescita economica ok non dobbiamo reinventare la ruota basta copiare dei modelli che funzionano scusa un fondo che è in perdita da sempre meglio disinvestire dipende è in perdita da sempre dipende ok dipende quali sono le ragioni della perdita il da sempre cosa vuol dire sei mesi un anno 25 anni non lo so quindi ci possono essere ragioni strutturali che ti portano a dire sì questo è impossibile che recuperi taglia il braccio in cancrena taglia la mano in cancrena prima che ti mandi cancrena all'intero braccio oppure ci sono oppure sei all'interno di una volatilità dello strumento ok quindi dipende all'interno del percorso investimento consapevole spieghiamo bene questo ok come fare l'analisi del portafoglio non è difficile si può fare in autonomia spieghiamo come se vuoi maggiore informazione contattaci perché la domanda è è proprio questa quel percorso è finalizzato a fare una conversione del portafoglio cioè capire le regole base per investire in modo consapevole capire che cos'hai nel portafoglio tenere i rami secchi tagliare i rami secchi tenere i rami buoni e aumentare l'efficienza del portafoglio perché ti diamo dei portafogli modelli se ti interessa ci contatti ti spieghiamo bene ma in due parole è questa per investire nelle materie prime porta meno rischi se sì perché dipende che materie prime sono e dipende come le inserisci nel portafoglio comunque a breve uscirà un video su loro non aumentare il rischio significa non aumentare il rischio di farsi male bisogna diversificare giusto? sicuramente quella è la ricetta più semplice da mettere in pratica sì si parte dalla diversificazione per contenere il rischio poi c'è poi il punto è che il rischio quanti rischi finanziari conosci? uno la maggior parte delle persone conosce uno che è la volatilità il prezzo dei mercati che sale e scende in realtà all'interno del percorso spieghiamo che dei rischi finanziari ce ne sono nove ok? che le persone non capiscono nessuno glieli spiega io non è che faccio corsi dove parlo della rava e della fava ok? cioè parlo corsi cioè facciamo dei percorsi dove spieghiamo quello che nessuno ti vuole spiegare ma il rischio finanziario è molto variegato giusto due parole rischio liquidità rischio valuta rischio come si chiama? imprevedibilità dei rendimenti non è il termine giusto ma non mi viene la parola adesso rischio insolvenza rischio credito ce n'è che ce n'è rischio inflazione ok? ce n'è nove di tipologie differenti all'interno del percorso spieghiamo quali sono e come gestire ognuno di questi ok? siamo in dirittura d'arrivo vi ricordo è l'ultimo invito poi ne parliamo domani non mi sembra di vedere qualcuno che si voglia voglia partecipare a una diretta cioè voglia venire in diretta ma ormai a questo punto andiamo domani però vi dico se vi iscrivete al canale Telegram oltre a poter partecipare a quello che metteremo in paglio nelle prossime dirette se volete farmi una domanda vi chiamo e me la fate in diretta dicevamo non ho capito la domanda di looping delay riscrivimela se facciamo in tempo ti rispondo Ivan lungo periodo 10-20 anni ETF 25% 50 euro 25 obbligazioni si va necessariamente in attivo? eh boh te lo spieghiamo te lo spieghiamo nel percorso perché devi capire che cosa c'è dentro e cosa aspettative ragionevoli aspettative di rendimento da questa composizione da questa ricetta devi capire che cosa ti puoi aspettare di rendimento da azioni obbligazioni e oro se no non c'è qualcosa che non va Omar diffondono diffondono che l'euro ai giorni contati diffondono chi? chi è che lo diffonde? chi? mi fa molto ridere questa affermazione a parte il diffondono la terminologia diffondono come si legge che l'euro ai giorni contati ma ma dove si legge? chi l'ha detto? e se anche qualcuno l'avesse detto che con che competenze o da che posizione fa queste affermazioni cioè vi rendete conto di cosa vuol dire uscire dall'euro? non ve ne rendete conto Draghi nel 2012 e 12-13 non mi ricordo quando disse will do la famosa frase will do whatever it takes noi faremo tutto il necessario per proteggerci per proteggere l'euro in due parole stampare moneta come non ci fosse un domani ok? quindi non si torna indietro nel bene e nel male non è una valutazione politica io tendo ad essere filo europeista ma non pensate che si torni indietro cioè non non contateci non c'è chi mi ha scritto pensiamo alle criptovalute non mi ricordo dove non non è uno scenario guarda è più probabile che a Terri e Marziani se devo fare una stima di probabilità Farus abbassare le tasse sui redditi insieme alla diminuzione della spesa pubblica per pensione stipendi e trasferimento doveroso per le nostre figlie e nipote insomma abbiamo più pensionati che lavoratori ditemi se è normale ci sono 500.000 italiani che sono in pensione da quando avevano 50 anni in Italia cioè questa gente ha incassato più di quanto ha versato e ciò nonostante lascia un debito pubblico al 150% alla fine di quest'anno arriveremo al 150% ai figli cioè voi dove se avete la mia generazione voi dovete andare io infatti litigo con mia madre per questa cosa gli dico mamma io non ti vedo protestare in piazza né te né i tuoi amici dove siete perché voi state derubando la generazione successiva ok chiuso la parentesi e mia mamma dice ma perché ti arrabbi con me non ti arrabbiare con me no mi arrabbio invece poi dopo torniamo ad abbracciarci e torniamo in una sana relazione madre figlio Andrea ultima domanda poi vi saluto vi ricordo allora raccomandazioni generali abbiamo ancora 63 bonus in regalo per l'osservatorio economico finanziario che diamo in regalo a chi si iscrive a investimento di lungo periodo entro la scadenza dell'offerta che è il 26 luglio ok per maggiori informazioni contattateci chiamate il numero verde vi scrivo anche il numero verde 800 6 8 5 500 oppure info chiocciola gpinvest punto it è arrivato direi di sì ecco grazie rischio sequenza dei rendimenti non mi veniva benissimo quindi se vi interessa iscrivetevi entro al 26 o contattateci per capire se fa per voi questo o altri ci tengo a precisare noi adesso abbiamo chiaramente un'offerta che è molto variegata di servizi che vanno a colmare dei bisogni specifici della clientela non è detto che questa sia la vostra priorità anche se è in offerta ok quindi da un lato ci può essere della curiosità per comunque capire certi elementi importanti dall'altra contattateci perché magari in base alle vostre necessità la priorità è per dire il percorso pianificazione finanziaria fai da te quindi man mano che andiamo avanti è naturale che andremo a colpire delle esigenze sempre più specifiche i percorsi generalistici li abbiamo già presentati sono lì che macinano iscritti in automatico perché abbiamo sempre nuovi iscritti mese dopo mese ma magari non è la vostra priorità quindi in questa occasione se ci contattate comunque visto che siamo in fase di lancio vi possiamo fare un'offerta particolare anche per iscrivervi ad un altro percorso se volete approfondire contattateci ultimissima domanda random vediamo per investire in materie prime come gli etici sono un buon investimento da aprile WTI crude oil per formato del 50% si bisogna capire cosa stai facendo ho già fatto dei video sul petroglio abbiamo fatto li trovi sul canale proprio commentavo ad aprile l'operazione noi abbiamo fatto all'interno dei portafogli modello un'operazione sul petroglio e abbiamo fatto il 25% in tre settimane non era nata come un'operazione di trading ma poi l'evoluzione della curva dei future ci ha portato ad uscire subito da quella operazione e di fatto era nata come un'operazione di più lungo periodo si è trasformato in un'operazione di breve può succedere quindi cosa vuol dire che quando parli di materie prime devi conoscere i future e o lo sai fare in autonomia oppure c'è molta gente che ci ha lasciato le dita dentro quindi fai i conti fatti bene non è come un investimento di lungo periodo tradizionale ok perché quando ci sono i future ci sono i derivati c'è da capire come funzionano strumenti di derivati complessi come quelli bene con questo vi saluto non riesco a rispondere a tutti perché sono le due devo scappare ci vediamo direi di fare un'altra diretta domani sempre all'una se vi interessa capire se volete partecipare al contest iscrivetevi al canale telegram vi posto di nuovo l'invito con questo è tutto ci vediamo domani ciao a tutti